Più di 250 partecipanti, tra cui 88 agonisti e poi 150 amatori, una trentina di bambini accompagnati da mamma e papà, sono i numeri della prima edizione di Castello Run. La marcia tenutasi a Castel San Giovanni, nonostante la pioggia battente, ha richiamato sui percorsi allestiti da Atletica Piacenza decine di partecipanti. La parte del Leone l'hanno fatta gli 88 atleti della competitiva. Per la più dura, la 10 km, ad avere la meglio sono stati Andrea Soffientini di Azzurra Garbagnate e Karem Gianni Diaz Sanchez di Nuova Atletica Fanfulla. Soffientini ha chiuso la 10 km maschile in 32 minuti e 26 secondi, Diaz Sanchez in 44 minuti e 29 secondi. Per la maschile al secondo posto si è piazzato Andrea Tuzzi di Atletica Piacenza, quinto posto per un altro piacentino, Claudio Tanzi di Talpose. Ma Castello Run è stata anche una grande festa dello sport amatoriale delle famiglie, grazie ai percorsi studiati per i semplici appassionati e anche per i bambini.